La grande tenacia, una forza che sta dietro al loro lavoro e la convinzione, ma dall'altra parte anche un'apertura massima verso il mondo esterno e verso tutte le affluenze del design di altre discipline. Un approccio tecnico diverso rispetto a scuole che fanno soltanto design, senza avere una base di esperienza tecnica e di progetto che qua al Politecnico invece è consolidata. Importantissimo è il lavoro di gruppo, importantissimo è sapertare all'interno della nostra famiglia. Da un punto di vista tecnico un po' più tecnico appunto la disponibilità a fare parte di un gruppo, integrarsi all'interno del gruppo coprendo diverse professionalità. La capacità di interagire con più figure all'interno dell'industria. La seconda cosa è la capacità rappresentativa. Io dico sempre il design parte dal pensiero e ho trovato un'ottima scuola, anche l'ottimo approccio che parte dal pensiero e poi sviluppa un design dal pensiero. La metodologia, l'approccio tecnico e il progetto, la qualità e la cultura del progetto. Le figure che coordinano l'insegnamento sono tutte figure che vivono, hanno vissuto la professione che insegnano. Spaziano dal disegno al modello matematico, alla renderizzazione degli stessi e questo dà sicuramente un carattere di completezza alla persona, alla figura professionale. Questo master secondo me ha la grandissima forza che si sviluppa all'interno di questa grossa realtà che è il Politecnico. Sicuramente i designer sono sempre chiesti perché bisogna rinnovare l'evoluzione delle forme e di tutto. È una persona che abbia un approccio molto più legato alla progettualità, all'etica del progetto, all'etica e all'estetica che siano collegate e combinate. È importantissimo che i ragazzi abbiano la voglia di spostarsi, di viaggiare e allo stesso modo che se sono designer abbiano la volontà di applicarsi anche sulla modellazione 3D. La curiosità è la parte più interessante che riassume meglio. Le capacità che ci aspettiamo sono molte. Si parte dal disegno, quello è molto importante, è la prima cosa che lo fa colpire, ma poi bisogna essere pronti a rispondere in modo appropriato in tutti gli aspetti. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti.